Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nell'angolo di Claudio Oggi parleremo di Garuda Linux, non ve ne parlo dal 2021 Il primo video in assoluto con il signor Dennis era un fuori di distro, se non erro il 5 Quest'oggi lo riproviamo nell'ultima versione però con il signor Giorgio Buongiorno signor Giorgio Buongiorno e un saluto a tutti E un saluto ovviamente al caro signor Dennis che ha già avuto il piacere di vedere questa bistro Un saluto al signor Dennis che ci guarda dall'assù Ah no è ancora vivo Scherzi a parte Ma povero Dennis, ciao carissimo È la fortuna che il signor Dennis non guarda i miei video Quindi siamo sali Allora Giorgio, praticamente Garuda Linux Una delle bistro più personalizzate nel mondo Arch Perché già da qui possiamo vedere che offre praticamente la totalità di DE Tutto A nostra disposizione Poi vabbè la Quilotto è sempre gradito Qua siamo nella home page del sito che vi lascio qui sotto in descrizione Diciamo che Garuda Linux non ha bisogno di grandi presentazioni Perché è sempre stato comunque molto completo Esiste dal 2020 se non mi ricordo male Sì Quindi è abbastanza giovane come derivata di Arch O comunque distro che si basa su Arch Andiamo a vedere la pagina download dove già ci dà i requisiti minimi Che ogni volta mi chiedete Anzi è un po' in verità che non mi chiedete i requisiti minimi Comunque li avete qui Vi ripeto sempre da considerare comunque che versione scegliete Perché già con KDE magari con 4GB Non è un bel vedere E ovviamente disponibile solo a 64bit Breve riepilogo anche delle istruzioni per l'installazione Vi lascio in descrizione anche il video su come realizzare una chiavetta viabile Con Rufus, Balena eccetera Che fa sempre comodo Qui raccomandazioni per eventuali dual boot eccetera E qua ci danno anche i parametri per operare in live Io ho scaricato come diceva il signor Giorgio La versione Garuda KDE Proprio perché è la principale È disponibile anche in versione gaming Con appunto queste modifiche apportate Ovvero andiamo a trovare Steam e altri launcher per il gaming Quale per esempio l'Utris eccetera E poi abbiamo anche diversi tool per la gestione appunto Della distro BS C'è anche Discord Retroarch eccetera Quindi possiamo scaricare anche da Torrent Sempre sia lodato il Torrent Che è comodissimo Sempre sia lodato Esatto ISO da 4GB Quindi siamo nella norma Qua abbiamo tutte le versioni Gnome Cinnamon Cinnamon Dico per i più scrupolosi XFCE Poi abbiamo la versione Sway Per chi ama comunque farsi del male Con comandi da tastiera sostanzialmente Perché l'interfaccia è proprio ridotta all'osso Garuda i3 E poi Qt Tile La versione anche super vanilla D.K.D.E. Lite Quindi qua Infatti c'è una bella raccomandazione Solo per utenti esperti Esatto Perché proprio questa è ridotta all'osso All'osso Sì quindi da quella base Potete costruirvi sostanzialmente la vostra distribuzione Cioè il vostro sistema Esatto Come abbiamo fatto noi con Endeavor OS Solo che lì abbiamo lasciato quel minimo di personalizzazione Personalizzazione E qua poi come ultima versione abbiamo La versione Hyperland Quindi centrata praticamente sul tiling di Wayland Vi faccio vedere anche il forum Molto importante Perché comunque ha dietro una bella community Super super attiva Con tutte le sessioni dedicate Lingue, errori critici eccetera Purtroppo non essendo su Debian che è privo di errori Qui abbiamo gli errori E poi abbiamo anche il wiki Veramente bello Fatto bello e organizzato Sì Esatto Abbiamo innanzitutto il riepilogo Dei requisiti minimi e raccomandati E poi qui a sinistra Tutte le schede del caso Per esempio Una bella comparativa con altri distro popolari Dove ci fa vedere Che pacchetti andremo a utilizzare Quindi Pacman più Octopi Il repo in uso Arc repo più chaotic hour Più proprio gli hour Originali E abbiamo anche tutte le informazioni Nel caso Installatore Calamares IDE Che vi ho fatto vedere poco fa E la comparativa con Mangiaro o Ubuntu E qui poi ragazzi avete tutte le istruzioni Di installazione eccetera Ma io ho già preparato Una macchina virtuale Perché io le distro Le provo e ve ne parlo Da Windows Windows 11 Nello specifico Andiamo a avviarci La nostra macchinina virtuale Inizio a non saper parlare Eccola qui Ma non ti preoccupare Ribadirò io la cosa Tutto nella norma Allora Qua a schermata iniziale Già Possiamo andare a settare i parametri Specialmente Per quanto riguarda Magari un uso in live Ci andiamo a Impostare la tastiera Allora Fammi scegliere Quella italiana Sembrava di averla vista Eccola qui Purtroppo qua è piccolina Lingua Lingua Siamo spagnolo sempre Sempre Italiano a questo giro E nulla Vabbè Il fuso orario Possiamo anche fregarci E non impostarlo Insomma Europa Io Ovviamente ho scelto Africa Ok Mi spiace Allora Roma Poi direi Roma 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 Dice ho scelto Eccolo lì Perfetto E poi si può avviare con i driver OpenSource Presumo Abbiamo anche i driver Nvidia Ma in questo caso Avviamo con i driver Direttamente open Essendo che siamo su VirtualBox Bella comodità Già che le live Preimpostino magari L'utilizzo dei driver Nvidia Questa è una bella cosa Che si ha da Da non troppo tempo Ma comunque È un qualcosa di comodo Sì Diciamo che in un panorama Dove oramai Nvidia La fa da padrona Fa molto Molto comodo Comunque vedo che Già la risoluzione È cambiata È cambiata Quindi abbiamo fatto bene A fare questa scelta Vi ripeto Con una pendrive Da 8 giga Già potete utilizzarla Per test in live O comunque installarla Anche che cd Non ne masterizzo uno Veramente da una vita Quindi Certamente Ormai li masterizzano Soltanto dai Per i referti medici E poi non li possono leggere Perché non hanno più i lettori È vero Ogni volta Ti hanno il cd Con la radiografia La cosa E dici Ma dove cacchio Vabbè Esatto Bellissimo Sta cosa Vabbè Anche se in realtà Ragazzi Attraverso il mio link Referral Di Amazon Potete cercare Un lettore DVD esterno Questi DVD oramai Con 15 euro 20 euro Le trovi Sì 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 Partita a schermo intero Bellissimo Quando c'è Dice La qualità No comunque Oramai ho notato Che con la versione Nuova di VirtualBox C'è meno problema Sulle risoluzioni Quindi è un ottimo Passetto avanti Dai Sì Per chi ama Ovviamente Portarsi avanti E testare In macchina virtuale Io non capisco I detrattori Delle macchine virtuali Perché alla fine È una grandissima comodità E ti permette Di sbirciare A quello che potrebbe essere Un'installazione Definitiva Però in genere I detrattori Delle macchine virtuali Sono quelli che hanno I Celeron Cioè quelli che non possono Usarlo VirtualBox Hai capito? Esatto Allora Che bello Che cos'è questo? Allora Questa è la Welcome screen Di Garuda Io ve lo pronuncio in inglese Perché lo so Che insomma Mi seguite anche Madre lingua Sì 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 Mi seguite anche per Quello O forse solo per quello Attenzione Qua abbiamo un bel Riepilogo Con tutte le informazioni Del caso Garuda Assistant Eccetera E possiamo andare Anche all'installazione Che è proprio Quello che faremo Bellissimo lo sfondo Che è stato pure sfocato Non so se è voluta Per ora in fase Di installazione Ecco infatti C'era il focus Per la schermata Bella anche Questa impostazione Qui in basso E poi vabbè Il buon Vecchio e caro Calamaro Che Non tradisce mai Il benvenuto Devo dire Molto migliorato Anche l'installer Di Ubuntu Abbiamo visto L'altra volta Nella nuova Nove mestrale Qua vabbè E' tutto impostato Perché ha preso I parametri Dalla live Qua lasciamo Default Perfetto Cancella Intero disco Anche qua Poi c'è il discorso Del partizionamento Manuale Per i più Esperti Diversamente Lui andrà a farci Una partizione Unica Che poi suddividerà Ho visto che ha messo Già Btrfs Come Sì sì Perché è impostato In quel modo Diamo Drago Come nome utente Fantastico Che il tastierino Numerico Si è acceso Mi sono emozionato Emozionato Anch'io Allora Qua abbiamo La password 1234 La dico Nel caso in cui Mi volete E qua c'è Il riepilogo Di quello che andrà A fare Appunto La partizione Di boot E poi abbiamo La partizione Dedicata Allo spazio Non vi ho detto Che ho dato A questa macchina Virtuale 4 core E di ram Ho dato 6 giga Quindi pienamente Nelle richieste Minime Sì le ho superate Di 2 giga Perché I raccomandati Sono 8 E i minimi 4 Diciamo che Ho fatto una via di mezzo Con 6 Potevano darne Ragazzi Anche 10 giga Perché avendo 32 giga Non è un problema Però Volevo comunque Simulare un computer Medio Oramai dico I pc Minimo Secondo me 8 giga 6 giga Bene o male Siamo lì Nulla Come direbbe Il signor Giorgio Ricordando Quello che dico sempre Ci vediamo Al termine Dell'installazione Rieccoci ragazzi Prima di fare Riavvia Mettiamo il segno Di spunta Vi faccio vedere Una cosa Per chi Ama Gli effetti molli Abbiamo Gli effetti molli Ok Detta questa cagata Facciamo clic su fatto Mi dimenticavo anche di dirvi Che l'installer È totalmente offline Quindi non avete necessità Della connessione a internet Anche per risparmiare Un po' di giga Sulla vostra connessione Il sottoscritto Ogni volta si scorda A disinserire il disco In questo caso L'abbiamo dovuto fare Quindi facciamo Un bel reset Della macchinina Ok Perfetto E facciamo Il primo avvio Signor Giorgio Ok Fantastica La schermata A schermo intero Accendiamo Il tastirino numerico Vediamo anche Le sessioni Disponibili Di base Wayland Capito Debian Anche Linux Mint Se mi senti Wayland E X11 Ok Io sottolineo Queste cose Perché Essendo fanboy Di Debian E Linux Mint È giusto Vi ricordo Che Wayland Esiste dal 2008 Cioè Sto parlando 2008 E ancora Molti sistemi Non lo vogliono Integrare Però vabbè Allora Schermata di benvenuto Perfetto Qua ora Ci andrà a fare Sicuramente Gli aggiornamenti Del caso Probabile Allora Diamo La password Di root Questa lezione Dovrebbe essere Stata In partita L'amministratore Di sistema Locale Solitamente Equivale a Rispettare La privacy Degli altri Pensare Prima di digitare E anche di digitare Nei commenti Questo vale Pure per quello Da grandi poteri Derivano Grandi responsabilità Bellissimo La citazione Spiderman È stupenda Ok Sta facendo Un bel refresh Del sistema Del mirror Delle liste Sì Carino Poi oltretutto Che io non ho fatto nulla Mi ha dato Il benvenuto Mi ha detto Di ricordarmi La mia password Ovviamente Vedo che c'è anche Il menu unificato In alto Si noti Hanno fatto Sì sì Ho visto che È andato leggermente In errore però Eh può capitare Allora Facciamo Ok Eh infatti Qua mi dice L'aggiornamento È andato In errore Vabbè possiamo Utilizzare Octopy Così iniziamo A vedere Ma attenzione Mi dice di riprovarci Secondo me È la mia linea Che è un pochettino Disturbata Ecco ce l'ha fatta Stavolta Sì Mi sembra di sì Almeno Penso Se no faccio hotspot Dico Non è un problema Sì Se no appunto Proviamo da Octopy Che è praticamente Il gestore Che hanno messo Per aggiungere Per rimorre software Io e il signor Giorgio Preferiamo Pamac Però Dico sono Sì personalmente Sì lo preferisco Alla fine gusti Sono scelte Personalizzazioni Sì Poi come dicevamo Off camera Volendo In due click Ora vi facciamo vedere Per chi non piace Magari questa grafica L'impostazione Generale Dei pannelli Eccetera Si può Ripristinare Senza alcun tipo Di problemi Sì Io penso che sia La mia linea internet Sì Ho un problema Dei loro server In questo momento Magari C'è una problematica Nella Digenerazione Dei mirror Allora Di stopparlo A questo punto Perché lo vedo Un pochettino Piantatino In difficoltà Sì Allora Chiudi sessione No Ok Allora Questa è la schermata Di benvenuto L'abbiamo visto anche In fase di live E abbiamo Abbiamo anche appunto L'assistente Per il setup Qui ci sono Tutti i tool Che Garuda È fantastico Per questa cosa Perché abbiamo Già system cleaner Per dare praticamente Una pulizia Al sistema Lui oltretutto Lo fa da qua Ok Sì sì Molto Molto bello Carino Graficamente Poi ora Sta avviando Staser Perfetto E qua Questo già L'abbiamo fatto vedere In un click Ti fai la pulizia E tutto Cioè Fantastico Perché faccio così Sì Programmore Non c'è nulla Perché è appena avviato Però È nuova nuova Già 50 megabyte Li abbiamo portati via Allora Qua mi segnala Un aggiornamento Del sistema Parziale da fare Vediamo se Magari era questo Che andava a prendersi I permessi Che secondo me Aveva qualche problema Nel Ok Qua dice Aggiornato Aggiornato Qui Staser È rimasto Aperto Però lo possiamo Chiudere Tranquillamente Questo Guardate Cioè Per chi ama Anche ora queste cose L'effetto fiamma Dovebbe esserci pure Quello lampada Sì C'è Io ragazzi Quando vedo Queste cagatine Alla Compix Rabbrividisco Però Poi ci sono quelli Che fanno così E hanno le fiamme Mi sento molto Nel 2006 Che anno è 2000 Sì Più o meno 2002 No 2006 2005 Era Guarda 2006 Bravo 2006 2008 La fiamma L'effetto lampada Boh Vabbè Magari I tempi Potrebbe essere carino Ma Anche no Grazie Allora Qua è un po' Problematica La situazione Gli aggiornamenti Sincronizzazione Database Aspetta che La dovrà aver fatto Il menu Il menu Comunque così Mi piace parecchio Perché Ti dà Molto contesto Sì 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 L'ho usato per parecchio Sì L'ho usato per parecchio tempo Con l'impostazione Perché comunque Si effettivamente Comoda Fa un po' il verso A quello che è Lo stile Del Sistema Di Apple Però Bisogna riconoscere Che assolutamente Il menu unificato In alto Così È comodissimo Sì Sì Non è affatto male Qua come dicevamo Però per chi non Esatto Per chi non ha male Lo stile Di Garuda Basta andare In uno stile Qualsiasi Si fa anche La disposizione Del desktop Si cambia tutto E Ciaone Si torna Ad una versione Che Che volete Praticamente Welcome To KDE Arch Con i tool Di Garuda All'interno Vabbè Onestamente Ragazzi Io Rimetto La grafica Di Garuda Perché Stiamo utilizzando Garuda Linux Mi sembra giusto Dare il tributo A chi ha fatto Tutta la personalizzazione A scelta Gli sfondi Eccetera Quindi Reimpostiamo il tutto così Nel frattempo Stiamo facendo Gli aggiornamenti Quindi Lo mettiamo Anche un pochettino In crisi Da questo punto di vista Esatto Gli sfondi Vabbè Sono molto Molto belli Perché comunque Sono contestualizzati Mi piace un botto Il discorso Che se c'è una finestra Davanti Lui mi va a sfocare Subito Praticamente il tutto Per darmi il focus Meravigliosa Sta cosa Esatto Molto molto bella Vabbè Poi queste sono Le impostazioni KDE Che dicono Sto lì Ad annoiarvi Con queste cose Qua abbiamo Il menu Che è il classico Mi diceva il signor Giorgio Non è sensible soccer Ma è il kick off No Dovrebbe essere Dovrebbe essere un kick off O comunque sia uno dei menu nuovi Di KDE Ci sono anche le alternative Se non vi piacciono questi Basta andare fondamentalmente Sull'iconcina Del tasto Quello che si chiamerebbe start Fare tasto destro Vedrete che c'è un menu Con alternative Una cosa del genere Ma configura avviatore di applicazioni Dovrebbe essere Se non mi ricordo Esatto Sì Ci sono le alternative A quel menu lì Allora Questo in uso È avviatore di applicazioni 2.0 Ed è il kick off Come potete vedere qua Però dico Io alla fin fine Questa personalizzazione Basta cambiare tema E vi va a rimettere Il pannello classico Di KDE Sì Non c'è alcun tipo di problema Molto bella La personalizzazione Dal punto di vista Dei tool Pensavamo anche Con una live Già hai Anche la possibilità Di ripararti il boot Che è molto Molto comodo Esatto Faremo anche un video Dove vi facciamo vedere Clonezilla Che è un tool Veramente comodo Un ottimo programma Per farsi il travaso Esatto Io ho avuto Il piacere E la fortuna Di poter fare Un upgrade Del mio SSD Passando Ad uno Più veloce Di nuova tipologia Grazie a Clonezilla E con due piccole Modifiche Che ho dovuto Eseguire Ho avuto La possibilità Di non Andare A reinstallare Tutto Perché non ha senso Reinstallare tutto Quando ho Un'installazione Che fondamentalmente È funzionante Alla perfezione Tra le altre cose La mia installazione Di Arch È lì Da Quasi Cinque anni Ormai Viaggia Che è un piacere Poi avevo I dual boot Windows Oramai è storica Signor George Sì Non ha senso È Per chi dice Insomma Arch Non Arch Ubuntu Eccetera La bellezza di Arch È questa Una volta installata Quindi anche di Garuda In questo caso Una volta installata Se non siete Dei smanettoni Che amate Creare problemi Il sistema Potete portarvelo avanti A vita Con Ovviamente Aggiornamenti Patch di sicurezza Kernel Nuovi Introduzione Di tante cose nuove Che è Sicuramente In un'ottica Di Utilizzo Quotidiano Aiutano Allora Io vi sto Vogliono vedere Praticamente I tool Da Garuda Assistant A Garuda Gamer Che Con un click Vi fa installare Tutti i principali Emulatori Abbiamo anche La possibilità Di gestire Il lato Gaming Aggiungendo Tutto questo Cioè con un semplice Click E poi fate applica Lui vi va Aggiungere il tutto E le famose Versioni Che già trovereste Installate Sulla versione Gaming Qua potete Selezionarvi Che ne so Solo Steam Solo Battles Che trovate anche Un video dedicato Qui Nel canale Lutris Cioè Fate così E applica Senza Alcun tipo Di problema Open RGB C'è Praticamente Tutto E questo Nel tool Garuda Gamer Poi c'è anche Garuda Network Assistant Per vedere Un attimino La vostra Connettività Il bluetooth Ovviamente Qua Modulo bluetooth Non ce n'è Però vi fa gestire Il tutto Da qua Vi fa vedere Anche i driver In uso In questo caso Lo vede come Una scheda Intel Molto comodo Perché comunque Da un semplice tool Già hai la piena gestione Anche avanzata Garuda Assistant Ti va a fare personalizzare Ancora di più Il livello di manutenzione Btrfs Abbiamo System Component Quindi qua Hai la piena gestione Vedi Pipewire Vuoi passare A pulse audio Fai così E poi ti vai a eliminare Il supportino Per Pipewire Alza support C'è Veramente tutto Il firewall Già Installato Insomma ragazzi Penso che Più Di così Veramente Non so che distro Proporvi Se questa non è Out of the box Come dicono In tanti Per farsi la bocca Non so cosa lo sia Perché Se mi dite Che la personalizzazione Di Linux Mint È wow Questa è doppio wow Con La capriola in avanti Cioè perché Io tutto questo setting Su Linux Mint Non l'ho mai visto Ci sono sempre le stesse Impostazioni Qua si va veramente Nello specifico E torno a ripetere Vi basterà andare Su sistema E avete tutti i tool Del caso Cioè già Anche avere la possibilità Con Il tool Dedicato Di fare una manutenzione Che vi va A segnalare I aggiornamenti In modo automatico Relative notifiche E poi vi spuntano qui Come avete visto In questo momento Stiamo aggiornando E non ho dovuto fare altro Che digitare La password Di root E lui Fare il resto Sì vabbè Ho dato poi Il CD conferma Per fare aggiornare Però Fantastico pure Guarda Era diventato Trasparente Sì 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 Il titolo Pauroso Esatto Ma voi concentratevi Sempre su Il dondolio Qua Così Che vi piace tanto E quindi Ragazzi Una Distro Veramente Personalizzata Anche forse Molto 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 bello Poi come Internet Abbiamo Fire Dragon Che dovrebbe essere Basato sempre Sul classicone De noi altri Però lo andiamo A avviare Per vedere È un firefox Sì sì Te ne accorgi Dal loghetto Dal loghetto Camusato Però È quello A parte che Comunque qua Dovrebbe esserci Scritto Sicuramente Allora Fammi vedere Le informazioni About Eccolo qua Sì abbiamo Comunque firefox Praticamente Ragazzi Basato su quello Personalizzato Come design Ma Alla fin fine È quello Infatti versione 169 È sempre quello Il chiaro Richiamo Qua comunque Vi portano già Alla pagina Dedicata Che cos'è Darkreader.org Con tutti i vari Diciamo Sono tutte le varie Estensioni Che includono Darkreader Serve per avere La modalità scura E una miglior Leggibilità Sui vari siti Anche dove Non è presente La modalità scura Insomma ci sono Tutte le scelte Che il team Mi trova Ovviamente Ragazzi la linea Sta andando male Perché Qua sta scaricando Il mondo E più Quindi Già poi fa schifo Di suo la linea Ma io proverei Anche ad andare Su Confitech A sto punto Proviamola come si deve Ora ci proviamo Tanto ci andiamo Da qua Che c'è il collegamento Signor Giorgio Non c'è Il contigo Bene bene Confitech Per chi non lo sa Il nostro Secondo canale Dove parliamo Di intelligenza artificiale Conf UI Eccetera Eccetera Che poi Praticamente Trovate qua Nella home Del canale C'è Di attento Anche per iscrivervi Senza alcun tipo Di problema Devo dire Che la navigazione Ragazzi È quella di Firefox Né più Né meno Cioè Pure stupido Dirlo Qua abbiamo L'ultimo video A disposizione Vediamo Come si comporta Dal punto di vista Dell'esecuzione Del video Vabbè ma Va bene L'unica cosa Ogni volta È segnalargli La qualità Perché lui Giustamente La va ad adeguare Alla mia linea Bellerrima Però Alla fin fine Va Ok Devo dire Che Non c'è Il contigo Ma siamo Anche a schermo intero L'audio Non lo sentite Perché si accalerebbe A quello Del signor Giorgio Quindi l'ho tolto io Allora Qua sta Installando Sì ho visto che Sta installando L'ultimo kernel Il 6.6.1 Che ha introdotto Diverse novità Anche per chi ha Ad esempio Un notebook Da games Ci sono un sacco di video Vedere anche ragazzi Il discorso di Octopy Per Esatto Il gestore dei pacchetti Aggiungere Aggiungere Rimuori i pacchetti Il famosissimo Software Center Che Molti risulta Irrinunciabile Quindi È giusto Farvi vedere Anche questo Non vi aspettate La grafica Con le categorie Eccetera Perché qua Abbiamo sì I gruppi Ma si va All'antica Un po' come era Su Synaptic Si va a cercare Il pacchettino E poi praticamente Fai click E te lo installi O guardi le info Per avere comunque Maggiori informazioni Sul pacchetto In questo caso Gimp 2.10.36 L'ultima a disposizione Poi tasto destro Installa E lui ti va a dire Se vuoi aggiungere Dipendenze opzionali Con un semplice click Metti il segno di spunta Ok E poi con un'applica Vai a installare Il tutto Sì Fai il riepilogo Qui lo spazio totale Del download E poi ovviamente Puoi addirittura Anche seguirlo dal terminale Una chicca Per evitarsi La cui grafica Qua password di root E via Io non lo installo ragazzi Perché qua sta Ah no Ha finito A posto Quindi possiamo anche Installare Gimp Così vi facciamo vedere Anche la velocità Di apertura Di un programma Visto che Per ora c'è sempre La disputa Snap più lenti AP Image Qua siamo Reparto Hour Quindi vediamo anche La velocità Download devo dire Abbombazza Non sembra neanche Sì direi di sì Forse mi ha dato Un boost Evidentemente Un boost in mega Esatto Salutiamo la team Che è sempre Ciao team Veramente braverrimi E poi qua ragazzi Nel Garuda Welcome Che poi potete anche Disattivare da qui Avete anche Tutti i contatti Del team Appunto il forum Discord Telegram Twitter Eccetera Quindi non sarete Abbandonati a voi stessi No proprio su Garuda Devo dire di no Una community Abbondantemente attiva Come quella di Endeavor OS O la stessa Linux Mint Dico alla fin fine Sono molto attivi Qua abbiamo anche Il richiamo per il wiki Website GitLab Cioè veramente Molto molto Completa Chaotic Hour Che va a sfruttare Insieme agli Hour E appunto anche Pacman E Octopi Nello specifico Per Ricercarli Io vi devo dire Ragazzi Questa non vuole essere Una recensione Lo devo dire all'inizio Non è una recensione È semplicemente Una Una prova Una prima Uno primo sguardo Ad una distribuzione Fatta E basata su Arch Che Si comporta molto molto bene Funziona bene Quindi per chi magari Vuole davvero installarsi Un Arch Senza Far troppa fatica Con un buonissimo Una buonissima gestione Da parte di un team Della community Insomma Secondo me È un'ottima scelta Si va ad accostare Forse a livello Di Endeavor OS Magari un pelo sotto Allora Io secondo me Perché è estremamente Funzionale Completa Rispetto a Endeavor OS L'ho sempre detto Questa è molto Più Personalizzata Su Endeavor OS Sì ci sono i tool Però qui C'è proprio Innanzitutto Anche un richiamo Animal Gaming Con L'opzione dedicata Garuda Gamer Che ti dà a dare Veramente il mondo Tra emulatori Sì è molto bella Questa Lancer Cioè guarda qua È super super completa Anche i controller Ti va a considerare Su Endeavor OS Puoi aggiungere Ogni singolo tool Ma lo devi andare A ricercare Qui con un click Ripeto Mi install Tutto Personalizzazione pesante Che può dare Fastidio a molti Perché magari Dice Io molte cose Non le avrei messe Ma anche lì Puoi tirar via Tutto E scaricarti La versione Con KDLite Che Praticamente Ti dà la base Vanilla Una base Certo Vai ad aggiungere Tu il tutto Tanto di cui I repo Sono lì a disposizione E niente ragazzi Che dire Rispetto al 2021 Quando l'abbiamo provata Io e il signor Dennis Devo dire Che sono andati avanti Con soprattutto Wayland Che ora è Praticamente La sessione Centrale Di Garuda Linux Ovviamente Hanno aggiornato il tutto C'è anche modo Di andare ad aggiornare KDL La versione 6 Per iniziare A provare le novità Ma lo vedremo Quando esce Perché preferisco Provarlo Nella sua totalità E nulla Io ringrazio Il signor Giorgio Per la compagnia Devo dire che Alla fin fine Si è dimostrata La Garuda Che avevamo lasciato Diversi anni fa La trovo Molto più Stabile Forse Sì Mi dà quell'impressione Di Ormai un progetto Ben avviato Molto ordinato Sia partendo dal sito Comunque che è Un biglietto Di presentazione E lo fa La fa dovere Questa presentazione Si presenta bene E comunque Nell'ottica Di installazione Direi che Se vi piace Anche semplicemente La scelta del team Estetico Beh Fantastico Direi che Allora Potete vivere sonni Tranquilli Ripeto La scelta estetica È tutta Alla fine Incentrata Sui colori Già A partire Dallo sfondo Perché comunque Le icone scelte Le trasparenze È l'effettino Che ti va a dare Il focus Della finestra Non hai lasciato Nulla al caso Ripeto Tutti questi effettini Poi alla fine Te li puoi andare A gestire E disattivare Se il tuo computer Alla fine Non ce la fa Vai a gestirti Queste cose Da aspetto Comunque C'hai tutto Con un click Lo puoi riportare Su brezza O anche suite Senza la personalizzazione Del team Cioè se io vado A fare un click Qua Vi dico Disposizione del desktop E delle finestre Già Vado a ottenere Un sistema Molto più Incentrato Sul tema suite Piuttosto che Sulla personalizzazione Come vedete Non c'è più La barra qua sotto E abbiamo Un tema Molto più Minimal Tra virgolette Cioè io vi consiglio Di ripristinare Comunque Che ne so Il sistema Brezza Dove avete Già il pannello Come siete abituati Su kde Cioè così A colpo d'occhio Se non fosse per il simbolino Comunque di fire dragon O anche i tool Di sistema Non direste mai Che è una garuta linux Vabbè si Ammesso Arch O comunque una distro Con kde Punto Cioè perché così Come vedete Siamo praticamente Su kde Con la grafica Classica Sono rimasti i colori Così Però Molto gradevole E già abbiamo tolto Comunque Sì Anche Anche colori Semplicemente Magari per chi non lo sa Facciamo una mini Impostazione Basta andare nell'aspetto Si sceglie i colori Si va a scegliere Il tema Brezza E si applica O comunque si cambia Mettendolo diverso Come vi piace C'è anche ovviamente Anche l'accento In base a quello che vi Può piacere Con il colpo E cambiare tutto Basterebbe dare una riavviata E già molte cose Le va Sì esattamente Vedi perché ancora il mouse È tipo su quello Predefinito Del vecchio tema Esatto Però ragazzi Se torni ad esempio E sullo stile L'unica cosa Se vedi anche su stile Dell'applicazione C'era ancora Cuvante Vabbè Io ho rimesso qua Sì 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 E lì se lo porti su Brezza In teoria Dovrebbe andare a cambiare Tema scuro Brezza Vedi Sì Puoi fare La bellezza appunto Di Di Linux È quella Vabbè sì Poi Nello specifico Dico KDE È sempre stato Secondo me Avanti Esatto Esatto Bene E nulla ragazzuoli Io vi lascio il link In descrizione Trovate anche appunto Il video dove vi spiego Come fare una chiavetta Avviabile Per chi Magari non sa Come sfruttare Balena Rufus Eccetera Lo trovate in descrizione Il link Per Confitech Lo trovate Nell'home del canale Insomma Basta che cercate un minimo O comunque Lo lascio anche qui sotto È alla fine del video E niente Ringrazio nuovamente Il signor Giorgio Un salutone Signor Dennis Che non ci osserva dall'alto Ma è tra noi Vi auguro Cent'anni di salute Ragazzo Fenomenale E nulla Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 step one wake up brother gon' rise with the sun step two get some good some food in you step three you grow hard about what you want to be step four everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be